54 punti strategici selezionati nelle aree pubbliche della città per una connessione wifi gratuita. News a portata di smartphone con la possibilità di ricaricare cellulari, tablet e laptop grazie ad 8 panchine intelligenti, dal design elegante ma non impattante con l'ambiente e poi servizi per studenti ma anche per famiglie e turisti. La Giunta Comunale dell'Aquila con la delibera del 19 luglio scorso ha provato infatti la localizzazione dei punti di connessione wifi previsti dalle strategie urbane e sostenibili dal bando wifi U e degli elementi di arredo urbano denominati panchine intelligenti. L'assessore alla mobilità e trasporti Carla Mannetti ha sostenuto dunque l'idea lanciata già lo scorso anno dal consigliere comunale d'Insieme per l'Aquila Giancarlo Della Pelle. Saranno punti di aggregazione importanti, dice l'assessore Mannetti, ma andranno anche a valorizzare il patrimonio culturale, lo sviluppo turistico e si punta ad un miglioramento e a modernamente l'aumento della sostenibilità della mobilità cittadina. Una rete wifi infatti rappresenta un valido substrato su cui innestare lo sviluppo dei servizi smart tramite la comunicazione continua tra dispositivi e sistemi di uso differente. In questo modo per l'assessore potranno anche migliorare i servizi alle attività produttive. L'installazione di una rete wifi gratuita poi va nella direzione di avvicinare i cittadini ai servizi di e-government che sostituiranno in misura sempre maggiore il tradizionale utilizzo degli sportelli fisici. La connessione avrà un raggio di 100 metri circa e sono stati individuati ben 54 punti. Tra questi il Palazzetto dei Nobili, via Scarfoglio, la circoscrizione di San Giacomo, il Teatro Comunale Ridotto ma anche lo Stadio Comunale, varie delegazioni e altre vie importanti come via Ulistenurzia, via Aldomoro, via Vezzano, Centro Sociale di Pianola, l'Auditorum Renzo Piano ovviamente, lo Stadio Italo a Concia, Palazzo Fibioni, via Roma, il punto informativo di Piazza Duomo ma anche la piscina comunale e il terminal di Collemaggio. Sarà dei punti anche Centicolella, la base di funivia di Fonte Cerreto, lo stello di Campo Imperatore, la stazione Collemaggio e altri punti cittadini.